Ciao a tutti ragazzi e bentornati finalmente sul mio canale, io sono Diego e sì, è veramente tanto che non carico un video su YouTube, sono passati quasi due anni e sì, vi ho lasciato che ero così e sì, sono cambiato una cifra allora ragazzi, sicuramente ho tantissime cose da dirvi, tantissime novità e tantissime cose da spiegarvi so che non sono stato molto bravo e corretto nel mio ultimo video perché comunque io circa ho smesso che era marzo 2019, quasi due anni sono passati e sapevo già che poi quelli là sarebbero stati i miei ultimi video però un po' per un discorso di voglia, un po' per un discorso di tempo e scuola e non ho manco fatto un video nel quale vi annunciavo il mio abbandono anche perché non pensavo sarei mai tornato, sono sincero la mia cosa ragazzi è che adesso ho cambiato completamente stile di vita e ritmo un po' per l'università, quindi ora sono all'università, prima stavo in quarto liceo e sì, niente ragazzi, essendo cambiati completamente i ritmi mi rendo conto che mi trovo più tempo a disposizione ma in realtà non è che ho più tempo a disposizione, è più tempo per stare a casa e quindi riesco a fare video e mi è avuta voglia di continuare e di riprovare infatti ho già due video programmati, sono i prossimi due, sono due video in collaborazione ve lo dico senza problemi con un'azienda che si chiama Wondershare che sicuramente avete già sentito anche se mi seguite sul mio canale che mi ha messo a disposizione da mostrarvi due programmi che ritengo molto molto interessanti e niente, dai, anche grazie a lei, diciamo, sono tornato a fare video su YouTube perché ho sempre avuto ultimamente un po' la voglia di ritornare e poi con questa collaborazione ho avuto poi anche un po' come si dice sono stato spronato ecco a fare un nuovo video sul canale questo è un video veramente molto molto breve nel quale volevo semplicemente salutarvi e dirvi che adesso sicuramente non vi posso garantire costanza ma tornerò con i video su YouTube so che molti dei miei vecchi video non funzionano più comunque vi portavo tutorial quindi ci sta che cambiano i metodi si aggiornano i programmi e quindi so che moltissimi dei video che ho fatto non funzionano più ed è per questo che nei commenti voglio sapere da voi se volete che io rifaccia qualche video in particolare che non mi funziona più sicuramente un paio di novità ci sono e già dei prossimi video li vedrete perché ho cambiato apparecchiatura, ho cambiato metodo di registrazione diciamo un po' di novità ci sono state comunque in questo anno e quasi 8 mesi mi pare di assenza detto ciò ragazzi io spero che, cioè io sono molto molto contento di essere tornato come vedete sono cambiato tanto e non solamente allo fisico ma proprio a livello di impostazione quindi spero magari di fare qualche video anche un po' più interessante e magari con un'altra maturità rispetto a quelli che facevo al tempo e so che sicuramente di quelli che mi seguono sarete rimasti veramente pochissimi questo video farà 100 visualizzazioni non mi interessa però ho deciso di cominciare e quindi niente ragazzi io spero che siate contenti almeno qualcuno di voi io lo so molto e ci vediamo nei prossimi video e ci vediamo e ci vediamo